E' il momento delle pagelle, siamo alle pagelle di Verona-Milan, questa partita che ci ha consumato da un punto di vista delle energie, da un punto di vista della sopportazione di certe situazioni, ma ne abbiamo parlato nel post partita. Allora veniamo alle pagelle, pagelle che sono un po' così colano nonostante la vittoria, di solito quando si vince si tende a dare qualcosa in più. Questa sera, a parte che vi farei vedere il foglio degli appunti della partita, avrei dovuto stracciare tutto, fossi stato a scuola mi avrebbero dato quattro, è tutto un casino. Allora, Tartarusano vuoto 5,5, incolpevole in occasione del gol, insicuro in altre circostanze, soprattutto nell'uscita, fine della partita, che mi ha terrorizzato, fatto perdere anni di vita, e non dà sicurezza al reparto. Si è visto nel corso della gara, in alcuni momenti, che non si intende, ma è anche normale, a fine conti uno che non gioca mai, non è che può essere, non può diventare il riferimento della difesa, no? Ecco, quindi voto 5,5. Calulu, allora, Calulu voto 6, salva bene, alla fine del primo tempo, un contropiede del Verona, ogni tanto, così, diciamo, ha dovuto correre un po' di qua, un po' di là, ha fatto anche qualche sgancio in avanti, nella proposta offensiva, ma voto 6, così come Tomori, alcune buone chiusure, chiaramente dovendo tamponare gli spazi lasciati da Teo, qualche volta va un po' in difficoltà, però, meglio, meglio di altre partite quest'anno. Allora, Gabbia, eh, Gabbia, Gabbia sarebbe stato, sarebbe stato da 7, se non si fosse perso piccoli in occasione della traversa, e lì, insomma, è un errore grave, anche nel finale commette un'altra serie di imprecisioni, però fa una partita comunque di sostanza, ecco, e poi c'è anche l'autogol di mezzo, che ovviamente non è colpa sua, però, eh, finisce in mezzo, è quelli che danno le pagelle, devono tener conto anche di questo, voto 6, meno, ma più che altro per la questione di piccoli sulla traversa, dove si è perso completamente il giocatore del Verona, e lì la partita poteva cambiare e, come dire, affossarsi definitivamente per noi, quindi 6, meno. Teo 5,5, non tanto per colpa sua, quanto per colpa di chi lo mette in campo nel modo balordo che abbiamo visto oggi, ma anche lui ci ha messo il suo, ha preso anche un cartellino giallo, ha provato comunque la conclusione, ha battuto i calci d'angolo, non capisco perché li batta lui, però non mi ha entusiasmato, ma ripeto, non solo per colpe sue, ma anche perché fatto giocare in quel modo perde tanto della sua spinta, della sua proposta, del suo coinvolgimento con Rafa Leao, ecco, quindi 5,5. Ora, Krunic gli ho dato 6,5 perché ha dovuto fare un po', come dire, di mestiere il mediano lì in mezzo, spesso trovandosi di fronte a diversi giocatori del Verona che arrivavano, spesso non sapendo, sempre per colpa non sua, se accorciare o se fermarsi, e quindi però diciamo che la sua legna l'ha fatta questa sera, quindi 6,5, poi tonali 7+, 7+, per il rimesso a fare la mezzala e a Verona porta bene, segna di nuovo a Verona, fa una partita increscendo, comincia un pochino stanco e anche un po' alla ricerca di una posizione, deve correre molto dietro ai veronesi, però insomma ha il grande merito di tenere fino alla fine e di segnare il gol della vittoria, quindi 7+, Brandias. Voto 6, ma per una partita sufficiente ha costruito, ha messo un'occasione, un passaggio chiave a referto, ha messo un'altra mezza occasione creata da lui, ci mette sempre l'impegno, la scelta poi di sostituirlo si è rivelata giusta perché chi è entrato ha fatto bene, però non sarebbe stato quello da bocciare alla fine del primo tempo, comunque voto 6, Adli la stessa cosa, voto 6, considerato anche il fatto che non ha fatto nulla di trascendentale, però era la prima da titolare e insomma doveva anche lui ambientarsi in una partita difficile e in un Milan difficile questa sera, quindi voto 6 per l'impegno. Poi Leao voto 6+, anche lui depotenziato da Pioli questa sera in quella ricerca spasmodica della combinazione stile Lautaro Lukaku con Giroud, però al merito di entrare nell'azione del gol, del gol del vantaggio, anzi dell'autogol del vantaggio, al merito di comunque, come dire, essere sempre sensibilmente pericoloso quando prende palla e va, ma quando prende palla e va in combinazione con la linea laterale, quando gioca centralmente lasciamo perdere 6+, Giroud voto 5, ticket e tacche, ticket e tacche, colpi di tacco questa sera, colpi di qua, colpi di là, cosa accadrà, cosa accadrà? La verità è che ha giocato tutte le partite e questa sera probabilmente non doveva partire titolare. È così, se Orighi continua a mantenere questo livello, quello visto stasera, anche di bontà fisica, secondo me dovrà giocare lui per un po' di partite, Giroud potrà essere molto aiuto subentrante, ma è stanco e in più anche messo nella condizione di far danni questa sera da Pioli, quindi voto 5. Veniamo ai sostituti, allora, dove sono i sostituti qua? Aspetta un momento. Pobega, boh, Pobega senza voto. Sarebbe stato 5 e mezzo, ma non gli do il voto perché non è giusto, è stato buttato dentro a battagliare alla fine, io credo in lui e quindi può fare meglio di certi rilanci per aria un po' svirgolati, è entrato nel contesto di una battaglia e quando si entra in guerra così buttato in tre in cia non è mai facile, senza voto dai, anche perché i subentranti diamo merito agli altri, ad esempio a Rebic, beh 7 e mezzo Rebic, Rebic cambia la partita, Rebic crea un'occasione, il primo tiro in porta, ne crea un'altra con un colpo di testa, fornisce a Tonali l'assist per il gol della vittoria e di più non si può chiedere sinceramente, questa sera decisivo entrando dalla panchina, grande ante, 7 e mezzo il voto, per lui Benasser 6 e mezzo perché entra e mette un po' di ordine, entra e come quelli che, diciamo, è come la signora delle pulizie in albergo, cioè entra e mette a posto il casino che hai lasciato la sera prima, prende la ramazza, si gira verso Pioli e dice aspetta che ti metto a posto di un po' il centrogampo, dà punti di riferimento, si mette in una posizione di riferimento centrale consentendoci di non avere più il nulla assoluto sulla linea nella mediana, gioca con intelligenza, purtroppo in questo momento è insostituibile, voto 6 e mezzo. Poi Orighi, anzi ciao, scusate ciao, voto 7 perché è vero che liscia la prima palla su un cross, ma poi fa due salvataggi fondamentali, fondamentali, buttato anche lui nella mischia, si becca subito un bel 7 proprio per questi due salvataggi. È da rivedere questo ragazzo, però stasera 7 perché ci salva per due volte il fondoschiena. Orighi voto 6 e mezzo, entra con Buonpiglio, sa giocare il pallone, sa tenerlo, tira anche un paio di volte, sarà molto molto prezioso da qui alla sosta perché dovrà fare rifietare Giroud, dovrà trovare il gol, ma credo che lui dovrà essere il centravanti delle prossime partite con tutto rispetto per Olivier che ha bisogno di riposare. Stasera è entrato bene, con una buona condizione, ha fatto qualche scatto, ha preso anche qualche fallo difendendo bene la palla a centrocampo. Insomma, per fortuna abbiamo recuperato sia lui che Rebic e questa è una delle poche buone novelle di questa sera insieme alla vittoria naturalmente. Aspetto i vostri voti qui sotto, vi auguro la buonanotte e vi do l'appuntamento a domani alle 12.55 con la compagnia della Live e vi ricordo che potete votare da questo momento il Venturino d'Oro nei sondaggi su YouTube, nel gruppo Telegram e insomma potete decidere voi chi domani sarà il Venturino d'Oro e chi lo vincerà per questo turno di campionato. Buonanotte a tutti!